Sicuramente guardando tutta la partita e guardando le azioni meritavamo di vincere, non solo con un gol di scarto secondo me. Però purtroppo la partita è andata così, abbiamo pareggiato che non è mai una bella cosa quando si gioca, soprattutto in casa. Perché questa squadra deve giocare sempre per vincere, ha qualità veramente importanti e deve giocare sempre per vincere. Quando non si vince non ci puoi mai essere felicità. Anche perché siamo soltanto all'inizio, questa è una squadra che può ovviamente crescere. Sicuramente, possiamo migliorare tanto. Sono arrivati anche due giocatori nuovi nell'ultima settimana. Si vede che sono giocatori importanti e sicuramente ci daranno una grande mano. Comunque è stata sempre una partita tosta, però comunque anche contro questo caldo non è mai facile. Però, ripeto, dobbiamo vincere. Quella è l'unica cosa che si deve fare. Però, complimenti a te. È arrivata subito una doppietta, forse quasi una tripletta, soltanto per pochi centimetri. Si vede anche il lavoro che hai svolto quest'anno nella precampionata insieme alla squadra. È sicuramente una bella soddisfazione iniziare così. No, certo. Si poteva completare in bellezza portando a casa i tre punti, ma purtroppo non è stato così. Sono contento di aver fatto gol, ma adesso speriamo che i prossimi gol servano per portare i tre punti, perché se no è sempre il bicchiere mezzo vuoto.